La metà degli uomini, mezzo tipo, 40 grammi, sono pochissimi, quindi Gina Tanzi, si accomodate, adesso Lai Marisa, Tanzi Natalina, la compagna del corretto, che non colpesse un po' l'apparecchiatura dei ragazzi del complesso. Pedrucci Pina, Falloni Pina, Rosa Frenzilli, Sestini Carla e Petrucci Vincenza, quindi vediamo se riusciamo a far entrare tutti qui. Ragazzi eccezionale, 9 donne alla gara degli spaghetti ed è il primo anno, stanno pure stretto, quindi si spingono a mangiare, si spingono a mangiare, stanno scordi, quindi si spingono a mangiare. vogliamo ricordare a tu io e senza l'aiuto come l'arri. se durante la gara qualcuna delle concorrenti volesse bere, a quel punto è chiaro, può usare le mani per bere, non può usarle per mangiare gli spaghetti. sposta il bicchiere. quando i giudici di gara mi daranno il via? siamo pronti? pronte? via! forza col tifo, forza! mi raccomando le mani eh! il tifo è un po' scadente eh! il bambino è lì, viva, viva! il cittadino! bisogna svuotare per intere il piatto, non lasciare neanche un fila. Grazie a tutti. Sì, seconda. Quindi aspettiamo la terza. Aspettiamo ancora la terza. Siamo tutti sullo stesso quantitativo ancora, quindi la terza può uscire da qualsiasi parte. Vai, Mina! Mina! Dai! Prova, è arrivata, dai! No, non si sa prima di roma, non si sa prima di roma. No, non si sa prima di roma. Pulire il piatto, pulire il piatto. Quindi anche la terza. Quindi, se mi date i nomi, vi vediamo un attimo i nomi. Quindi, prima classificata è Gina. Seconda, come è? Sistina. E la terza è Marisa. A sto punto un grosso applauso per queste coraggiosissime donne. Adesso sono qualche minuto per togliere... Bravissime. Adesso è finita la maniera degli spaghettini. Se esibili possiamo ritornare un po' più a buon notte alla piazza. Inghietro. Pira! C'è da spostare una macchina. E questa non è la canzone. Da voi bisogna spostarla. È una a5. Com'erano? Perugia, 52, 36, 37. Sono arrivati a mio domicile, scrivimi che sappiamo di chi è. Si è messo sotto, niente ha fatto così qua, niente ha fatto così qua. Hai visto il ginetto che ti ha fatto? Ecco il ginetto tua, vedi? A casa non mangi, capito? Aspetta un momento a bordo. O sta smanando la settimana stanzi. O iniziamo un po' ilo, però ne fa sto tutto. Ma posso sapere una settimana stanzi a qui? Ora, una settimana mangi che ci ho sopposto. O che è dietro? O bravo. O bravo. Ma non mi affumora. O bravo. O bravo. Si è successivo da qui. Di il ginocchio di sanitario di sanitario e di sanitario di sanitario di sanitario. Dio.